Ciao a tutti, siamo a Zurigo per quello che sarà la 43esima gara della storia di Formula E. Ed è una gara molto particolare questa nella capitale economica della Svizzera, perché per la prima volta, e poi vedremo che non è esattamente vero, ma comunque ufficialmente per la prima volta, dopo il 1955, si correrà una gara automobilistica in territorio svizzero e in modo particolare, mentre c'è André Lotterer che passa dietro di noi e ci saluta gentilmente come sempre, e ride anche, diciamo questo per far vedere com'è il clima della Formula E. Ma dicevamo, tornando al discorso, che per la prima volta dopo il 1955 si correrà una gara automobilistica in territorio svizzero. Detto questo, però, il sottoscritto nel 1993 è stato a Emmen, un aeroporto militare, non lontano da Lucerna, sempre in Svizzera, dove si era tenuto in quel momento una gara di auto elettriche, ai tempi non era la Formula E, erano ovviamente altri tempi, altre batterie, altra tecnica, però c'erano diverse categorie che hanno corso in questo aeroporto militare. E queste gare sono state fatte per due anni, 1992 e 1993. Entrambi i casi sono stati testimoniati dalle nostre vecchie riviste auto elettriche di quell'epoca. Adesso qui è chiaramente tutta un'altra storia, è un campionato che sta avendo un grande successo, con tutto quello che già sapete, con i grandi marchi che entreranno nelle prossime stagioni. Ci sarà qui presente Felipe Massa, noi abbiamo già fatto un appuntamento con Venturi e con lui per fare un'intervista, abbiamo già parlato con un medico del team Audi che ci ha raccontato molti particolari, molte cose interessanti di come si preparano Daniel Abt e Lucas Di Grassi per queste gare di Formula E, in modo particolare concentrandoci sul lavoro fatto da Daniel Abt che ha fatto grandi progressi in questa seconda parte dell'anno da che ha vinto la sua prima gara in Formula E e da che è diventato team ufficiale Audi in Formula E. Qui a Zurich vedremo altre cose interessanti perché per la prima volta, come dicevo, si corre a Zurich, c'è un pavé, sentite bene, un pavé nella corsia dei box della Formula E che ha dovuto dire come buon senso alla Federazione Internazionale dell'Automobile di ridurre la velocità di entrata dei box a soltanto 30 km all'ora, è una cosa che sarà per tutti, quindi è per tutti uguali, però Luca Filippi ci ha detto che non creerà grandi problemi ai piloti perché, a parte che hanno studiato tutto nei minimi dettagli per fare più velocemente questo pit stop. Qui oltretutto per la prima volta si conoscono i calendari e il format delle gare della quinta stagione e ci sono anche molte novità di cui parleremo con i protagonisti. Questo è il primo intervento che facciamo da qui da Zurigo con questa gara di Formula E il Zurich Eprix.